Un cordiale saluto a tutti i presenti. Siamo qui riuniti per celebrare il matrimonio tra Antonio e Alia. Entrambi sono qui oggi per coronare la loro unione, chiamando tutti voi qui presenti come testimoni di questo grande passo che stanno per contare. Prima di procedere con la celebrazione del ritmo matrimoniale, del silo voglio di entrambi, con la coppia abbiamo deciso di leggere un testo poetico, il cui titolo è Io prometto. Io prometto di rispettarti come persona e di non dimenticare che i tuoi interessi, desideri e bisogni non sono meno importanti di ogni anno. Vuoi tu, Antonio, prendere in moglie la cui presente Alina, promettendo di essere fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, in ricchezza e povertà, e di amarla ed onorarla tutti i giorni della tua vita. Sì, la voglio. Sì, la voglio. I testimoni degli sposi qui presenti hanno sentito mi rispondono affermativamente e dichiaro quindi che Antonio e Alina sono ora uniti in matrimonio e per sempre. Un applauso per favore. Un applauso per favore. Un applauso per favore. Io, Antonio, con questo anello prendo te a vina come mia legittima sposa. Io, Alina, con questo anello prendo te a vina come mia legittima sposa. E ora, finalmente, lo sposo facciamo passare la sposa. Grazie a tutti. Il piacere è che a conclusione del cerimoniale vi presento per la prima volta il Signore e la Signora. Grazie a tutti.